Lei presta molta attenzione alla produzione del fatto ecologico e vuole dare qualche consiglio a chi volesse seguire il suo esempio? Io penso che non sia più un'opzione seguire un esempio, ormai è una necessità. Forse 40 anni fa si pensava che l'interesse per l'ecologia fosse un aspetto più ideologico e quindi che selezionasse una parte di popolazione interessata, sensibile, ma che lasciasse aperta anche l'opzione di scelta ad altri a dire io non sono ambientalista, a me non interessa. Dobbiamo farlo entrare come un aspetto culturale della nostra vita e io tento quindi di dare un contributo per informare in modo che le persone prima di tutto abbiano gli elementi di informazione e poi sulla base di questi agiscano di conseguenza. La televisione rimane uno dei mezzi più seguiti e che raggiunge il maggior numero di persone in poco tempo e quindi è un mezzo che va e deve assolutamente essere utilizzato proprio per parlare di elementi così strategici nei confronti della nostra visione di futuro. Lei è venuta fin qui con la sua macchina ecologica? La mia automobilina elettrica l'ho scelta prima di tutto per me stesso e ce l'ho ormai da sei mesi e mi trovo molto bene la carico con l'energia elettrica prodotta sul mio stesso tetto dai pannelli fotovoltaici e oggi ho pensato che venire a Savona da Torino poteva essere una bella occasione tanto per fare una sorta di esperimento, certo, anche una provocazione benevola, perché no ma soprattutto una testimonianza, far vedere che è possibile, che si può fare che il cambiamento è prima di tutto un cambiamento culturale. Lei ha lavorato con Fazio, che tempo che fa? Come si trova? Abbiamo lavorato insieme ormai per dieci anni, fin dalle fasi preparatorie del programma e sicuramente per me è stata un'esperienza importantissima soprattutto per l'autorevolezza del Lago Rà che abbiamo in fondo costruito perché il programma ha subito una consistente evoluzione dalle sue fasi da qui il nome che è rimasto e si è evoluto insieme, che tempo che fa anche le mie funzioni sono mutate nel tempo dall'iniziale funzione di fare soltanto le previsioni del tempo è diventato invece il luogo di riflessione sulle grandi criticità del mondo attuale lette con la lente dei problemi ambientali, dei problemi energetici, dei problemi ecologici. E ha mai provato a convincere Fazio a comprare un'auto elettrica anche lui? Qui penso che lui sarebbe assolutamente pronto a prendere una macchina elettrica poi è ovvio che bisogna anche qui fare le scelte in base a come uno poi pensa di utilizzarla perché è una macchina che serve per percorsi brevi se uno fa dei viaggi lunghi non è adatta se uno la usa come city car sì e quindi dipende come è poi strutturata la vita di ciascuno Perfetto. E per il futuro che tempo farà? Ci aspetta un tempo burrascoso perché sia sul piano strettamente climatologico quindi dei cambiamenti climatici sia su quello in generale delle grandi problematiche di funzionamento della società e del pianeta se continuiamo a essere indifferenti rispetto ai segnali che la scienza ci dà avremo veramente cieli tempestosi se invece ne prendiamo coscienza e cominciamo a mutare il nostro approccio in termini costruttivi, positivi, c'è anche tanto lavoro da fare, c'è anche tanto lavoro per le generazioni giovani ecco credo che allora abbiamo gli spazi forse per rendere questa tempesta meno dannosa e di minore durata Perfetto, grazie mille Grazie 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 Grazie